Le chiamavano femme fatale, ma non erano personaggi della letteratura o del cinema. Belle e affascinanti, soprattutto disponibili, questo sì. Lo erano le tre donne che su internet, in chat, promettevano caldi incontri a uomini di mezza età. L'incontro di persona avveniva, ma senza lieto fine, almeno per le povere vittime che venivano drogate con psicofarmaci, sciolti in un bicchiere di birra o di una bevanda alcolica. Tutto questo per stordirli e derubarli. Una trama da film tessuta da tre donne e due complici, tutti e cinque accusati dalla procura di Siracusa per il reato di rapina gravata e continuata. La presunta mente del gruppo è una 52enne, condotta dai carabinieri nel carcere di Catania. Le altre due, una 47enne, agli arresti domiciliari e una 29enne, denunciata in stato di libertà. A loro il compito di selezionare accuratamente le loro vittime fra i partecipanti di un sito di incontri. Poi, dopo aver somministrato un potente ipnotico, entrano in gioco due uomini, utili a completare la rapina. 27 anni entrambi, il primo si trova in carcere, mentre il secondo è stato sottoposto all'obbligo di firma. L'ipnotico era così potente da costringere ogni vittima a recarsi al pronto soccorso. Uno ha addirittura avuto un colpo di sonno mentre guidava, e rientrando a casa ha tamponato cinque automobili. Derubavano orologi, telefoni cellulari, carte di credito, denaro contante ed eventuali oggetti preziosi indossati. Le vittime accertate sono otto, tutti residenti nella Sicilia orientale, ma un'agenda e un PC sequestrati dai carabinieri estendono il campo delle potenziali vittime a 70 contatti web. Insomma, una squadra con le idee chiare e i tacchi a spillo, per cui attenzione alle chat sul web e attenzione a chi vuole offrirvi da bere. Non si sa mai, e si sa come si dice, non è tutto oro quello che luccica. Grazie a tutti.